Finale, non vi fermate più, dove volete arrivare? Arriviamo fino in finale spero, spero di arrivare in finale. Com'è andata questa partita? Bene, è andata bene, tutto sommato mi aspettavo di peggio però siamo andati avanti quest'anno. Il prossimo anno puntiamo alla finale se riusciamo. Perché non quest'anno? Perché quest'anno ci abbiamo le gambe un po' pezziati.